Il modo migliore per mantenere un equilibrio tra successo personale e di squadra è quello di portare rispetto, avere dei giusti valori nella vita, condividere gli obiettivi, coinvolgere tutti. Quello che è importante tutti i giorni è il voler dare il massimo in quel momento. Sono cresciuta con degli ideali di salvaguardia per la natura, vivo nella natura, ci lavoro anche, per cui ogni giorno cerco di fare qualcosa per il nostro pianeta. Il traiettore liquide è un progetto che abbiamo sulla sostenibilità ambientale che mira a sensibilizzare la gente sul problema dell'inquinamento, cambiamenti climatici. Alla fine l'obiettivo è quello di riuscire a dire se ognuno di noi facesse anche un piccolo gesto giornaliero probabilmente cambierebbe moltissimo. I valori che mi porto dentro da questa esperienza sono l'impegno, la dedizione, attraverso cui raggiungere degli obiettivi sia professionali che personali, la passione in quello che si fa e nel volersi migliorare ogni giorno di più e la fiducia verso i colleghi. Siamo tutti indispensabili e tutti i protagonisti del futuro che ci attende. I valori più importanti sono sicuramente il valore della passione, dell'entusiasmo, dell'energia, della fortissima motivazione, i valori della famiglia e dell'amicizia che sono valori fondamentali per me, il valore dell'ambiente e della sostenibilità che ha come focus centrare le risorse delle persone. I tre valori emersi durante l'incontro e di cui mi farò portavoce sono la condivisione come momento di arricchimento, la curiosità come occasione di crescita e il coraggio, perché come ha detto Federica il coraggio non è non avere paura, ma avere paura e affrontarla. Grazie per la visione!